E voilà, eccoci! Sì, benvenuti, bentrovati, Luca Tremolada, siete su Tinketolli Teach, quindi un nuovo programma del canale di infodata su Twitch e non solo, sono le 18.01 del 23 febbraio e oggi insomma inauguriamo una nuova serie di, com'è che le chiamiamo Filippo? Video lezioni, facciamo video racconti? Sì dai, delle piccole video lezioni? Pillole, 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 dove? Qual è l'operazione? Partiamo dalle notizie, perché insomma la cosa più onesta che può fare un giornalista è quella di creare un contesto numerico alle notizie e i fatti che accadono, Per cui prendiamo delle notizie, vediamo come sono state comunicate o come sono state raccontate, facciamo i pignolini e Filippo è un data journalist piuttosto pignolino, anche l'occhiale dice che sei pignolino, facciamo i pignolini, andiamo a vedere la data visualization, la rappresentazione e poi insomma proviamo a raccontare quello che sta intorno alla notizia. Oggi partiamo con questa prima puntata ad occuparci di cosa? Di immuni. Allora, cos'è immuni? Insomma, lo sanno tu, diamo per scontato che si sa tutto, no? Beh, al minimo raccontiamolo, dai. Allora, diciamo che immuni è piaciuta, partiamo dal fondo come non si dovrebbe mai fare negli articoli, è piaciuta più ai giornalisti che agli italiani, è un'app nel senso che si è scritto tantissimo, ma è stata poi tutto sommato poco scaricata. Parliamo di un'app di tracciamento che nasce per avvertire, diciamo, chi l'ha installata, è un'app che va sugli smartphone, che è entrato in contatto stretto, in contatto stretto con una persona che in seguito ha risultata positiva. Quindi, questo lo fa in maniera anonima rispettando la pricing, ma qual è lo scopo di quest'app? Aiutarci, aiutarci tutti quanti a tracciare l'andamento del contagio sul territorio. Per cui, insomma, per dirla in malo modo è una cosa buona e giusta, no? Io, personalmente, sono un grande tifoso di immuni. Peccato che non è andata bene. Non è andata bene, nel senso che il tasso di adozione resta piuttosto bassino. Vediamo un po', facciamolo vedere. Sono, partita marzo, sono 10 milioni di download, ok? Gli studi cosa dicono? Che per funzionare questi 10 milioni di download dovrebbe, insomma, si dovrebbe arrivare a un tasso di adozione di almeno il 60-70% su una popolazione, ricordiamo, di 70 milioni di persone. L'hanno scaricata in 10 milioni, non la usano chiaramente tutti 10 milioni di cittadini, ma questo lo andremo a vedere magari mettendo un po' il naso nei dati. Ma, più che altro, insomma, anche se alcuni studi dicono che si possono avere dei risultati significativi con un numero più basso di download, diciamo che il risultato è un flop. C'è da dire che anche in altri paesi le app di tracciamento dei contatti non hanno funzionato. In Italia, insomma, però la storia è stata un po' più complessa, è stata un po' più complessa, un po' per la genesi di Immuni. Immuni, insomma, nasce strana, nasce sotto l'egida del ministro Pisano per l'innovazione, che, insomma, si occupa di fare il bando e di organizzare l'app. Poi, tra l'altro, organizza una task force di 70 persone, arriva Apple e Google che costruiscono il framework tecnologico e parte il progetto. L'app, diciamo, che prende vita tra aprile e giugno, no? La comunicazione inizia in inizio estate, non decolla, i tassi, nonostante la pubblicità, le comunicazioni, non funzionano, non sfondano, anche perché, diciamo, che l'errore principale è un errore di data entry, si crea una sorta di cortocircuito tra le tecniche per inserire i dati, le tecniche di comunicazione tra il paziente, cioè tra la persona che riceve la notifica di Immuni e poi il passaggio che porta questa notifica a entrare nel sistema e quindi a avvertire, diciamo, il Ministero della Sanità del possibile contagio. Insomma, si crea un cortocircuito umano. Quello che è stato detto è che poi Immuni ha dimostrato che nel tracciamento, nelle tecniche, nella technicality di tracciamento c'è stato un problema, un problema che è anche legato al fatto che il Ministero della Sanità, che è il Ministero che poi ha preso la paternità, insomma, che ha dovuto poi gestire tecnicamente, non solo tecnologicamente, ma anche nell'utilizzo e nello sviluppo Immuni, non ha, diciamo, supportato al massimo l'app, il Ministro Speranza non l'ha mai nominata e, insomma, non è stato mandato, non è stata molto sponsorizzata. A questo punto, cosa succede? Che guardando i numeri, noi assistiamo a una crescita piuttosto buona, ma la vediamo con Filippo, fino ad ottobre, da ottobre qualcosa si rompe, o quantomeno qualcosa non è più chiaro nei numeri. Proviamo a vederlo, questo sito. Sì, direi. Hai detto bene, appunto, è un'app che ha avuto tanto successo tra noi giornalisti, poco tra gli italiani, ma direi poco anche tra gli adetti ai lavori, perché, come hai detto tu, dopo una pubblicità iniziale, poi piano piano non se n'è più parlato, nel dibattito anche politico e pubblico non se n'è più parlato. Ok, prendiamo pure la home page di Immuni, dove abbiamo le numeriche. Abbiamo letto, quindi, che siamo intorno ai 10 milioni di download. È una numerica che non è altissima. Ad esempio, in Germania, il colore ha un warm-up, non so se in tedesco si dica così o forse ha un suono più rude, ma ad ogni modo il tasso di adozione... Anzi, i tedeschi non ci sentono, per cui lo possiamo dire. Esatto. Il tasso di adozione, a fine gennaio, quindi poco meno di un mese fa, era comunque più alto, il 150% più alto rispetto all'Italia. Parliamo di 25 milioni contro 10 milioni, che può anche starci rapportato alla popolazione. Quello che poi è fuori scala, in realtà, è il numero di utenti che hanno inserito i loro dati. Ora, guardando alle numeriche, come il sito di Immuni ha comunicato... Sì, scendi pure. Come il sito di Immuni ha comunicato questi dati? Quindi, quando iniziamo a vedere i dati sul sito di Immuni, il primo grafico che ci appare è questo grafico accumulato, che ci mostra l'andamento dei download. Un grafico che è significativo fino a un certo punto, nel senso che, prima di tutto, prende un periodo temporale abbastanza breve. Parliamo dei download dell'ultima settimana. Guardando questo grafico, sicuramente l'idea che chiunque può avere guardandolo è che tutto sta andando bene. I download aumentano costantemente, di giorno in giorno. Cioè, è un mondo magnifico. È un mondo magnifico. Una crescita costante e un grande successo di critiche di pubblico. Così sembrerebbe, guardando questo grafico. Il problema qui è che, abbiamo detto, è un periodo temporale abbastanza breve. Questo è uno dei... delle cose che accadono spesso, se guardiamo i grafici online, sui principali media anche. Cioè, viene chiamato selective framing. Cioè, prendere un periodo temporale specifico, tagliandone una parte. Che a volte è corretto farlo, però bisogna stare attenti. Il problema qui è appunto che questo periodo temporale è molto, molto breve. La cosa però interessante è comunque che Immuni ha reso disponibili questi dati. Se andiamo in fondo alla pagina, c'è il link a Github, dove sono stati resi disponibili questi dati. Quindi... Qui vediamo anche il dettaglio, no? Scusa se ti interrompo. C'è anche il dettaglio. La percentuale di download su numero di abitanti, no? La media nazionale, che è quella... Esatto. Che vedete... Questa è la media... Scusate, non mi veniva il termine, in arancione. Invece qui vedete un normale grafico a barre regionale. Ok? E scendendo ancora, paesi attivi per l'interoperabilità, cioè vedete dove sostanzialmente possiamo andare ed essere tracciati. La cosa qua curiosa, insomma, che come vedete, la Francia non c'è, non è un paese piccolo, non c'è neanche la Francia. Esatto. E tutta l'Europa dell'estero, anche chiaramente questa non è una responsabilità di immuni, l'obiettivo non è quello di puntare il lito, però insomma qualcosa non funziona perché è vero che non possiamo uscire di casa o che non siamo chiamati uscire di casa, però nel momento in cui usciremo di casa sarà anche interessante avere un dato che supera il confine nazionale. Insomma, poi non siamo più... siamo tutti sinceri europei e dovremmo essere lontani dal sovranismo, ma non siamo lontani dal sovranismo nel mondo dei numeri. Scendiamo ancora e qua c'è la pagina che a noi giornalisti dei dati interessa e piace tantissimo. Leggo? Sì, c'è una bella pagina che rimanda a un GitHub, leggi pure. Tutti i dati sono disponibili in formato CSV e G-Zone su GitHub. Cos'è GitHub? GitHub è questo portale molto utilizzato sia per la condivisione di dati, ma anche di framework, di programmi, dove Immuni ha creato la sua repository, quindi possiamo trovare i dati e anche una serie di documenti che ci aiutano a leggere i metadati e quant'altro. Quindi noi, cosa possiamo capire? Capiamo, innanzitutto, un pochino di data literacy, cioè lì ci troviamo... Anzi, più che data literacy, quando è di spiegazione di cosa si trova lì dentro, i metadati, cioè che cosa vogliono dire questi numeri, le tabelle Excel o CSV e anche le modalità di raccolta del dato, per cui l'informazione che sta intorno a questi data set. Esattamente. Hanno ovviamente usato un formato che va benissimo, è assolutamente open il CSV, e la cosa bella degli open data è poter prendere questi dati e ricontrollarli, noi giornalisti, come i cittadini, perché comunque tanti cittadini sanno usare un programma come Excel, ma anche altri programmi ormai per guardare questi dati. Apriamo la parentesi, a noi ci piace tantissimo entrare lì dentro, poi non è che tutti i cittadini dovrebbero fare questa cosa qua, e noi speriamo che questo accada più velocemente possibile. In questo momento è una nostra ossessione personale, privata, è un disturbo di personalità, che speriamo che questo disturbo di personalità diventi il più possibile condiviso e aperto, è come un disturbo di personalità. Allora, qui abbiamo la struttura del repository, per cui l'andamento dei dati nazionali, l'andamento dei download, l'andamento settimanale dei dati regionali. Tutti i file presenti nella cartella dei dati, nella folder con all'interno i dati. Manca il dato provinciale, lo diciamo. Non c'è il dato provinciale, non c'è il dato regionale, ma non tutto quello che vorrà. Ad esempio, sui download, credo che non ci sia il dato regionale, ma c'è solo sulla parte di notifiche. E c'è solo il file con gli ultimi dati, non so se è stato anche conservato tutto lo storico con i dati regionali. Quindi, quello che di solito chiediamo anche sono i dati più granulari possibili, quindi con più dettaglio possibile. Per noi, per chiunque, più il dato è granulare, più c'è possibilità di fare analisi e quindi di trovare informazioni interessanti e far saltare fuori degli outlier, cioè dei dati, delle informazioni un po' particolari, qualcosa di anomalo, chiamiamolo così. Un outlier è qualcosa di anomalo nel dato, che poi solitamente è l'informazione interessante e quella anomala, non è la norma quello che succede solitamente. Anche per me, dimmi se ho torto, però più il dato è granulare e più in qualche modo si possono circoscrivere individuare i cluster, no? Assolutamente sì. Quindi se io troviamo che c'è un numero altissimo di attività di notifica in alcune aree posso decidere di disegnare un cancellino rosso e di cominciare a mappare, attenzione, a mappare l'Italia non più su base regionale ma su una base territoriale più dettagliata. E questo permetterebbe anche, che ne so, al paesino che sta in Lombardia, regione che sappiamo tartassatissima dal punto di vista del contagio, dove però, insomma, stanno in un paese, sono lontani, non hanno un contagio che sia uno perché devono avere le stesse restrizioni che io che invece abito a Milano e questo l'ho fatta un po'. Assolutamente. Ma sì, più il dato è granulare più possiamo trovare dei modelli, quindi sia vedere magari dei paesini che appunto non hanno in questo momento delle problematiche legate al Covid e comunque si trovano chiusi perché in questo momento le decisioni avvengono a livello regionale, sia ovviamente se avessero i dati molto granulari potremmo in un mondo ideale addirittura mappare come si sta muovendo il contagio, se avessero i dati giorno per giorno, comune per comune. Più sono dettagliati, più possiamo trovare i cluster e eventuali outlier, quindi l'abbiamo sempre chiesti. Qui siamo chiaramente in una situazione di limite. Siamo in una situazione abbastanza aggregata nel senso che l'unico dettaglio è regionale, sui download, sul file dei download in realtà non c'è neanche il dettaglio regionale, quindi siamo totalmente aggregati e l'unica disaggregazione avviene a livello di data, quindi giornaliero, ai dettagli giornalieri. Qui come vedi c'è le licenze, cioè l'uso che si possono fare del dato e insomma i tempi di aggiornamento. Ok. Allora, posto che questo insomma è il terreno di gioco, tra l'altro si possono poi andare a vedere i dati anche con delle visualizzazioni sugli autori, su chi c'è dentro, su che cosa è stato fatto, sulla frequenza di aggiornamento, però insomma a noi quello che ci interessa di più è poi andare a giocare un po' con i dati. Sì, giocare per però motivazioni anche serie, cioè trovare delle informazioni interessanti e raccontare, trovare delle storie nascoste in bella vista tra i dati. Adesso io provo a chiedere il tuo software di utilizzo dei dati, in cui stai usando Tableau, Tableau è uno dei principali software per l'interrogazione di grandi database, non nasce per il giornalismo di dati, ma nasce per utilizzi ben più complicati, noi come Infodata lo utilizziamo per fare questo e altro. Certo, ma in generale comunque tutti questi software nascono per il business e noi possiamo trarne vantaggio, anche Excel stesso non è nato per noi giornalisti, però... Nominiamo un po' di software che insomma c'è Infogram, c'è Datriano, c'è Flourish, c'è anche Google Studio, c'è... è uscito oggi il RAW Graph 2.0 del Density Design Lab di Milano, che ha fatto l'upgrade alla versione 2.0 dopo qualche anno, e ce ne sono diversi. E open source... Tra l'altro, V-Clipo è una nicchia mostruosa, che è quello del mapping, cioè i software per mappare, lì ci dedicheremo una puntata intera, perché lì si entra... Esatto. Molto, molto preciso e straordinariamente interessante. Le storie sul mapping sono molto, molto interessanti, i software sono molto belli, ce ne sono alcuni open source. Dunque, insomma, dedicheremo una puntata ad hoc a questo... Anche a questo, sì. Anche perché le mappe sono la prima forma di data visualization che l'uomo ha inventato, probabilmente, quindi è molto interessante e continuiamo a usarle sempre. Oggi più che mai, anche con il tracciamento dei dati Covid, avete visto probabilmente online migliaia e migliaia di mappe diverse. Comunque, quello che... andiamo a vedere sul tuo schermo quello del tuo software. Esatto. Quello che ho fatto è scaricarmi i dati dalla GitHub di Immuni, quindi c'è un CSV relativo ai download, un CSV relativo all'andamento nazionale delle notifiche e anche degli utenti positivi. e appunto abbiamo visto quel trend che veniva mostrato in home page sulla pagina di Immuni. Se magari prendiamo lo stesso periodo temporale che veniva mostrato nel trial, giusto per assicurarci che effettivamente quei dati siano corretti, prendeva gli ultimi sette giorni, io vado banalmente a filtrarmi gli ultimi sette giorni e vado a vedere quante sono stati effettivamente i download in questi giorni, quindi mi vado a disegnare il mio trend. Allora, il primo, la prima tipologia di grafico che mi viene proposta già dal software in realtà è un grafico dove la linea vedete che appare praticamente lineare. perché il mio asse comunque mantiene la base a zero. Solitamente in data visualization non è buona norma tagliare l'asse però in realtà in alcuni casi ovviamente dove abbiamo degli scostamenti molto limitati allora ha senso tagliare l'asse per vederli. In questo caso non è sbagliato farlo. Se io vado ad escludere lo zero dalla mia visualizzazione effettivamente abbiamo quella curva quella linea che vedevamo sul sito di Muni la disegno proprio come area chart come è disegnata sul sito di Muni ed è quindi interessante vediamo questo grafico e diciamo ok sta andando tutto bene si continua a scaricare i Muni con una certa costanza crescono. Allora prima di tutto dobbiamo tenere presente che questa è una accumulata quindi ovviamente la curva andrà sempre a crescere questo diamolo per scontato. Già se vedessimo i dati giornalieri quindi semplicemente i giornalieri vedete che la curva sale e scende ci sono dei giorni in cui abbiamo avuto più download dei giorni in cui ne abbiamo avuti meno. Posso interromperti? Sì. Vedete come la scelta di l'accumulata piuttosto che il dato giornaliera cambia drammaticamente la percezione che hai di un fenomeno ed è anche il motivo per cui insomma faremo queste lezioni perché come tu vai a comunicare il dato come tu vai a comunicare o a rappresentare un grafico poi ti in un certo senso influenza nel capire il fenomeno quello che c'è sotto cioè la verità della notizia mi viene da dire oggi mi... assolutamente sì perché la data visualization alla fine è un altro linguaggio quindi ha una sua grammatica e ha dei suoi modi per scrivere e ovviamente dobbiamo anche imparare come leggere i grafici ogni grafico ha le sue best practice e i suoi scopi però ci sono dei grafici ovviamente cambiando tipologia di grafico io posso anche vedere lo stesso fenomeno da punti di vista diversi questa è la cosa bella di poter cambiare velocemente grafico con i tool che abbiamo oggi riusciamo a farlo anche per provare a vedere la nostra storia da tanti punti di vista diversi ora torno all'accumulata quello che avevamo detto all'inizio di questo nostro incontro è che ok è vero negli ultimi giorni sta crescendo è un'accumulata c'è un costante aumento dei download però il periodo temporale preso è molto ristretto se vado a riprendere tutto il periodo temporale sia come linea che come area vedete che in realtà da giugno dal primo di giugno ad oggi anzi al 21 febbraio che è l'ultima release di dati che Immuni presenta oggi su Github vedete che c'è stato un aumento di download all'inizio quindi fino alle ferie perché per noi italiani sono sempre ad agosto quindi diciamo fino alle ferie o per la maggior parte di noi sono ad agosto e poi c'è stato un bel picco di incremento appena dopo le ferie quando siamo tornati al lavoro però è arrivato un momento dove vedete che la curva è sostanzialmente stagnante e questa è la storia che non viene rappresentata sul sito di Immuni prendendo quel preciso periodo temporale dal 31 di ottobre da fine ottobre ad oggi l'incremento è bassissimo praticamente a fine ottobre avevamo 9,5 milioni di download oggi siamo a 10,3 sì 10,3 milioni quindi abbiamo avuto un aumento che sostanzialmente è fermo la percentuale di download come detto è più bassa rispetto ad altri paesi europei la cosa ancora più interessante però è anche il tasso di utilizzo cioè secondo me il problema nostro non è tanto il tasso di adozione che è stato basso rispetto ad altri paesi europei però il problema vero è il tasso di utilizzo perché vogliamo ragionare cioè quello che probabilmente è successo è che questa curva legge abbastanza bene che a un certo punto è come se fosse venuta meno la fiducia nell'utilizzo di immuno tanto che insomma qualcuno ha controllato ma funzionerà ancora immuni c'è ancora un po' perché è uscito dal panorama mediatico non se ne parla più neanche Speranza non ne ha mai parlato Speranza non è mai parlato non è mai stata amata dal ministero Conte l'ha nominata però insomma non c'è stato non è stato supportivo nei confronti dell'affer insomma è stata un po' un mettiamo un giochino voluto dal ministero dell'innovazione molto supportato dai giornalisti tecnologi però che poi è rimasto lì adesso sarà anche importante capire che cose quale sarà la fine di immuni nel senso che sappiamo che c'è un altro governo sappiamo che questo nuovo governo ha detto quantomeno dovrebbe essere un governo data driven dovrebbe essere un governo che tiene conto dei dati sarà interessante capire se ci sarà un rilancio di immuni se ci sarà un rilancio anche nella comunicazione se Draghi deciderà di cambiare qualche cosa a partire magari dalle visualizzazioni che abbiamo visto direi di sì beh diciamo che appunto abbiamo un nuovo premier abbiamo anche un nuovo ministro dell'innovazione che è Colau Colau che era nella task force che ha anche spinto per immuni però teniamo sempre presente che Colau all'inizio in dichiarazioni che ha fatto a marzo parlava comunque di un'app un po' diversa che appunto condividesse anche le posizioni GPS quindi utilizzando reti mobili in congiunzione con un'app dedicata con GPS che è una cosa che va un po' contro come è stata costruita adesso immuni immuni adesso è stata costruita su un protocollo creato da Apple e Google che vietano la raccolta di dati sulla posizione dell'utente quindi se si dovesse cambiare probabilmente andrebbe davvero riscritta da zero diciamo che l'idea che però ha espresso in una forma diciamo pre la fase Apple e Google era quella vogliamo un'app che geolocalizzi la persona perché solo geolocalizzando la persona si può avere un attracciamento del contagio il modello che è stato adottato è un modello rispettoso della privacy per cui che poi va a segnalare alla singola persona se sei o meno stato in contatto per un determinato tempo con una persona a stretto contatto con una persona positiva e quindi poi sta anche alla persona a decidere se inviare o meno la notifica al server del ministero della sanità e per poi riuscire a tracciare l'eventuale contagio per cui insomma è un modello molto diverso da quello che bisogna capire se nei panni un conto era la task force che ha analizzato moltissimi aspetti un conto bisogna capire se nei panni del ministero della digitalizzazione che cosa farà non si sa neanche se sarà un qualche cosa che passerà da lui o che lui potenzierà in qualche modo sicuramente dirà la sua ecco esattamente vediamo se tornerà nel dibattito pubblico e se si parlerà di geolocalizzazione il dibattito si sposterà anche tanto di nuovo su privacy e questioni questioni relative alla privacy insomma vedo difficile ripartire da zero con un'app quindi verrà rilanciata in qualche modo è un pochino è cambiata nel senso che prima sull'app veniva generato un codice e poi bisognava chiamare un numero verde e poi erano le persone del numero verde che mettevano le notifiche insomma notificavano il contagio dovrebbe comunque arrivare un aggiornamento per poter direttamente fare mandare ricordiamo a Filippo che è stato tirato in ballo tante motivazioni sull'insuccesso di Muni che ribadisco è stato un insuccesso tecnico è un successo nell'adozione un po' è stata tirata in ballo la mancanza di cultura digitale dell'Italia degli italiani un dato insomma che è certificato dall'indice desi per cui noi non siamo un cultura degli italiani non significa che non abbiamo un computer o che non lo sappiamo accendere o che non sappiamo navigare su internet che il combinato disposto delle cose che ho detto fanno sì che ci sia da noi un diciamo un alfabetismo disfunzionale sul digitale molto alto facciamo fatica insomma a fidarci anche solo di internet guardiamo solo al dato sulle carte di credito ecco già questo sull'adozione delle carte di credito dei pagamenti digitali c'è voluto il cashback per un po' risvegliare o ripuntare l'attenzione per cui insomma siamo un po' fatto così poi c'è un dato anagrafico importante stiamo cambiando le nuove generazioni invece il digitale lo praticano lo adottano con una velocità diciamo in linea con gli altri paesi europei per cui insomma i giovani di oggi sono come i giovani olandesi però insomma diciamo che gli anziani di adesso sono un po' meno digitali delle altre nazioni ecco per farla comunque diciamo che appunto anche altre nazioni hanno avuto dei flop su app di contact tracing nella stessa Germania di cui parlavamo prima che ha avuto più download ma quello che vi dicevo che non è tanto il tasso di adozione ma è più l'utilizzo cioè utenti che hanno caricato i loro dati sull'app che è diversissima in Italia siamo a 11.000 italiani in Germania 240.000 quindi è il 2000% in più cioè la differenza non sta tanto nel tasso di adozione ma sta forse in più che a un certo punto gli italiani hanno proprio smesso di usarla anche chi l'ha scaricata ed è quello che possiamo vedere nel secondo CSV nel secondo file scaricato da GitHub che è quello relativo alle notifiche se anche qua andiamo a prendere il periodo temporale prendo tutto il periodo temporale e vado a prendere scusate prendo l'andamento dei dati prendo tutto il periodo temporale e poi vado a prendere le notifiche inviate e questa è la curva che si genera cioè c'è stato un picco di utilizzo e di notifiche inviate verso ottobre da fine ottobre in poi nessuno o pochissimi stanno inviando notifiche un po' potrebbe essere fisiologico però è un calo talmente drastico e c'è una differenza talmente alta con altri paesi europei come la Germania che indica sicuramente una sorta di abbandono se non una disinstallazione dal proprio smartphone semplicemente l'hanno abbandonata mentalmente gli italiani quest'app l'hanno lasciata lì sul loro telefono ma poi non l'hanno utilizzata o non l'hanno utilizzata abbastanza Filippo ricordiamo anche che a ottobre sono stati poi attivati i call center per cui con un decreto del governo è stato in un qualche modo facilitato la possibilità di comunicare le notifiche per cui forse questa curva qui legge anche l'attivazione del call center però non spiega il crollo ecco anche perché se ci ricordiamo i numeri sono molto più alti cioè noi abbiamo avuto 11.000 italiani che hanno caricato i numeri rispetto al numero di positivi ne abbiamo 10.000 al giorno è totalmente fuori scala rispetto ai nostri positivi ma anche rispetto a un paese come la Germania che come abbiamo detto ha avuto 240.000 notifiche quindi il 2.000 per cento in più un po' è un rapporto alla popolazione però è una scala che è troppo diversa per poter essere plausibile è spiegabile solo con la popolazione quindi questo è quello che sta succedendo con le notifiche inviate anche con le notifiche inviate sostanzialmente a un certo punto si è smesso un pochino di utilizzarlo ecco Filippo perché noi abbiamo fatto questa operazione di prendere scaricarci il dato e andare a vedere a costruire queste curve perché dalla comunicazione ufficiale correttamente attenzione ognuno comunica i dati che vuole come li vuole e nelle modalità che vuole però insomma questo andamento non si vedeva abbiamo visto questa rettona 45 gradi e quindi io utente non ero in grado di capire bene che cosa stesse succedendo giocando con il nome e scaricando il dataset e insomma rappresentando le curve ecco che abbiamo un'idea un po' più chiara di quello che sta avvenendo e questo ci permette di fare delle riflessioni e di porci delle domande anche tra l'altro assolutamente che è un po' quello che in parte abbiamo anche fatto chiacchierando oggi quindi cercare di capire i motivi di questo caso oltre a questo caso e tra l'altro noi faremo questa operazione qui la faremo con Filippo e con altri data journalist su altre notizie per cui andremo partiremo proprio dalle notizie dalla comunicazione da come vengono rappresentati i dati per prendere e presentarli e interrogare questi dataset e provare a capire insomma se c'è qualcosa di strano esatto hai altre cose che sono beh appunto questa modalità di prendere un frame temporale specifico è una cosa che succede si vede spesso quello che mi sottopondo è il mio cane salutiamo Zelda salutiamo Zelda è una cosa che avviene spesso anche su grandi testate editoriali e se magari ricondivido lo schermo vi faccio un altro esempio che è apparso negli Stati Uniti di selective framing appunto cioè prendere un periodo temporale senza fare particolare attenzione a che periodo temporale cioè a volte diciamo che il dato può sembrare ingannevole perché chi ha creato il grafico non è stato attento altre volte magari era un po' voluto diciamo questo grafico rappresentava l'aumento la crescita economica negli Stati Uniti in due periodi diversi 2009 e 2016 sostanzialmente sarebbe più o meno il periodo di presidenza Obama e tutto il periodo precedente che va dal 1950 al 2008 già qua dovrebbe arrivare suonare il nostro campanello d'allarme abbiamo due range temporali molto diverse ma questo è un esempio di selective framing cioè di prendere dei periodi temporali che raccontano solo in parte la storia se noi andiamo ad ampliare a dare contesto a questi numeri e prendiamo per esempio tutto il periodo che va dal 1950 al 2016 ci rendiamo conto che la storia è un po' diversa non è che in quel periodo specifico 2009 2016 è sceso il GDP ma il GDP negli Stati Uniti scende in maniera costante dal 1950 quindi questo è un esempio di selective frame anche un po' vado in riunione sono il nuovo addetto marketing della mia azienda prendo i dati da gennaio a dicembre faccio vedere il mio andamento e vedo che il mio andamento cresce che bravo che sono stato lo presento al mio CIO sono stato bravissimo poi magari amplio il mio trend dagli anni precedenti mi rendo conto che è una cosa stagionale ogni anno dal gennaio a dicembre aumentano le mie vendite quindi bisogna stare un po' attenti cercare di aggiungere più contesto possibile e poi decidere quale può essere il periodo temporale poi sul sito in Muni c'è un altro grafico un po' particolare però che è un grafico che vediamo sempre nella home page che poi però probabilmente potremmo parlarne magari un'altra volta di che problema c'è non so se abbiamo qualche minuto se vuoi farlo lo facciamo diamoci un occhio se torniamo all'home page di Muni vado sull'home page allora vai pure sull'home page e quindi proprio la pagina web del sito allora aspetta che sono anziano vai pure giù c'è un altro grafico interessante che è questo l'andamento delle notifiche e degli utenti positivi perché è interessante e perché è interessante capire come viene comunicato il dato perché se io sono un utente non tanto attento e guardo queste due curve mi sembra che le due curve viaggino più o meno parallele o più o meno molto vicine sfalsate però insomma sì in realtà e poi si sfalsano e già dovrebbe anche qua campanello d'allarme utenti positivi e notifiche ci sono dei casi che abbiamo più positivi che notifiche vorrebbe dire che ci sono 10 positivi con 0 notifiche c'è qualcosa che non torna già a logica diciamo subito che questo tipo di grafico ha due ascisse diverse cioè abbiamo due assi diverse per cui le notifiche da una parte con una scala e gli utenti positivi dall'altro con un'altra scala perché insomma sono due grandezze diverse due misure diverse sono due grandezze diverse sì e no nel senso solitamente un grafico di questo tipo con due assi si utilizza di più quando abbiamo proprio due misure con scale diverse per esempio un valore assoluto una percentuale e allora io se voglio mostrare le due misure insieme ci sta che uso due assi diversi qui tra positivi e notifiche in realtà sarebbe interessante vedere le due scale con la stessa con la stessa le due i due assi con la stessa scala perché sono due cose correlate più positivi ho più notifiche ho è impossibile avere più positivi che notifiche quindi anche questo grafico se noi andassimo a ricrearlo magari mettiamo al volo il 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 grafico la mia pagina anche in questo caso avremmo qualcosa di un pochino diverso quindi per per riassumere cosa succede che questo tipo di strumento funziona nel momento in cui tu hai delle grandezze molto diverse tra loro ok il fatto di averle utilizzate siccome queste due misure sono una parlano all'altra si parlano queste due variabili si parlano fortissimamente è il motivo per cui me le metti su un grafico è perché vuoi far vedere quanto variando l'una si correla anzi si porta a uno spostamento nell'altra e viceversa il fatto insomma che ci siano state adottate invece delle scale così non è sospetto però può confondere non c'è un dolo c'è una rappresentazione del dato che potrebbe essere migliorabile che l'ho messa giù bene l'hai messa giù benissimo cioè non è che ovviamente non c'è un dolo però un utente non lo sappiamo non specializzato potrebbe leggere questo grafico e dedurre qualcosa che non esiste sostanzialmente proviamo a vedere come l'hai rielaborato ce l'hai fatta si l'ho ricreato l'ho ricreato in tableau come trend come è realizzato sui muni in questo caso sono dei trend non curvi diciamo che i guru della data visualization non amerebbero neanche le linee curve perché sono dei trend che non sono reali però noi non siamo così io almeno non sono così dogmatico su questo questo è il trend come viene rappresentato sui muni cioè c'è una scala un asse delle notifiche che arriva a 260 l'ultimo valore qua in alto più o meno è 260 e la scala degli utenti positivi arriva a 140 se andassi a sincronizzare i due assi quindi vedete che le due linee sembrano viaggiare più o meno parallele c'è qualche scostamento ma ci sono anche dei casi in cui ho più notifiche che utenti positivi e dei casi in cui ho più utenti positivi che notifiche quindi qualcosa già di un pochino strano se vado a sincronizzare gli assi la mia visione è un pochino diversa quindi è anche la storia la correlazione tra queste due metriche è assolutamente visualizzato in una maniera più corretta quindi come detto quando abbiamo due assi ha senso usarli se ho due misure con due scale diverse voglio rappresentare delle vendite e una percentuale di sconto applicato sono proprio due misure diverse qui sono due misure che io voglio comparare voglio vedere quanti utenti positivi ho e quante notifiche ho inviato per ogni utente positivo per esempio quindi ha più senso ovviamente sincronizzare i due assi o usare un'unica scala allora io direi che ci siamo ho detto quasi tutto quello che volevamo dire molte cose ce le teniamo dentro e non le diremo mai o ce le diciamo a microfoni spenti insomma questa è la prima volta è andata è la prima puntata di Tinto di Teach ritorneremo prossima settimana sicuramente adesso bisogna capire quando e come magari segnalateci attraverso la mail di infodata infodata ilsole24ore.com se ci sono dei grafici delle comunicazioni delle cose che non vi convincono noi le analizzeremo scaricheremo i dati e proveremo a rappresentarli sempre che sia possibile scaricare i dati perché se ci fate vedere un grafico dove non è possibile cliccare con il jpeg con il pdf non andiamo da nessuna parte ci proveremo ma non ce la facciamo diamo appuntamento alla prossima puntata anzi vi diciamo già diamo l'anteprima domani torna questa volta non so perché però ci incasineremo spesso e volentieri parleremo di maschilismo dei dati con due scrittori che parlano due data journalist che ci parleranno insomma di gender gap relativo ai dati alle 10 del mattino per cui insomma bisogna essere tutti pippanti un bicchiere di caffè una tazzina di caffè una spremuta e ripartiamo arrivederci a domani ciao a tutti